...a prendersi questa grande responsabilità. Non guarda Buffon. Si muove Casillas. Deve essere in corsa lunga. 2-1! Carlitos Deves! Forza da Casillas! La Juve è di nuovo in vantaggio! Ha fatto una ricorsa strada, poi ha fatto un saltellino, ha visto che il portiere l'ha guardato. Palla non proprio angolata, centrale, ma Casillas va a sinistra. La palla in rete, 2-1. Importante in questo secondo momento, diciamo, molto importante la palla dove il Reale cercava anche di tenere possesso palla. Più vede centrale proprio, ma Casillas va dalla parte sinistra. L'ha voluto battere lui, il PC.